Siete sempre in uscita, coraggiosi e creativi e non vivete per valori che sono come le bolle di sapone. Sul finire di una giornata intensa, la prima a Torino, Papa Francesco ha incontrato i giovani in Piazza Vittorio Veneto rispondendo alle domande di tre di loro. Abbandonando il discorso ufficiale, il Pontefice si è soffermato soprattutto sul tema dell'amore, che è concreto, è servizio e si palesa più nelle opere che nelle parole. Ai tanti giovani presenti, Papa Bergoglio ha voluto rivolgere una parola impopolare, non per fare il moralista, ha detto, ma perché anche il successore di Pietro alcune volte deve rischiare sulle cose per dire la verità. L'amore è nelle opere, è nel comunicarsi, ma l'amore è molto rispettoso delle persone. Non usa le persone, e cioè l'amore è casto. E a voi, giovani, in questo mondo, in questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità e il piacere, ma è passarla bene, fare bene la vita, io vi dico, siate casti. Siate casti. Dinanzi al senso di sfiducia che accompagna tante esistenze, alle logiche di un mondo che persegue solo l'interesse personale, il denaro a costo di scatenare sanguinosi conflitti, Papa Francesco ha invitato i giovani ad andare controcorrente e a fare cose costruttive. Grazie. 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 Grazie.